Saludiamo questi ragazzi che alternativamente, li facciamo un applauso! Li rivolete qui questi gruppi? No, perché il pensiero, diciamo così, il progetto degli organizzatori è proprio di rendere questa manifestazione, questo contest, una gara fissa nel corso degli anni. Cioè, praticamente Agnone diventerebbe una piazza dedicata non solo a tanti tipi di musica, ma anche alla musica rock. Solo questo progetto, lo sanno benissimo gli organizzatori, lo so io, è ambizioso, però si potrebbe fare. Quest'anno abbiamo avuto veramente il piacere, e l'ho avuto anch'io, di constatare che i commercianti agnonesi e molte persone di Agnone hanno avuto così il piacere di lasciare organizzare a queste persone questo spettacolo. Altre un po' no, hanno impedito per tanti versi, ma sono veramente in minima parte. Ma le ringraziamo altrettanto, ringrazio da parte degli organizzatori comunque. Io volevo dirvi che questo appuntamento, se a voi piace, potrebbe diventare fisso di anno in anno. Il 30 di aprile c'è stata una gara tra vari gruppi, c'è stata questa gara, c'è stato un gruppo vincitore e ha portato a casa ben 500 euro. Fate un applauso perché non è poco. E poi bisogna anche pensare che per organizzare tutto questo ambardà, eh, occorrono parecchi soldini e bisogna ringraziare diversi sponsor. Io più tardi lo farò, sia per il 30 di aprile e anche per questa sera. Ma lo sponsor ufficiale, veramente, bisogna dirlo, è stato Don Alessandro, eh. Facciamo un applauso, facciamo un applauso perché ha detto di sì, ha detto di sì che ci sia una festa per i giovani, una festa che sottolinei questa partecipazione giovanile e che lascia un po' di posto anche a questa musica alternativa, a questo rock rigondante e corroborante. Questa sera, comunque, lo spettacolo non finisce qui, è vero, è vero, Chiara. Posso permettere di dire, va bene, eccetera di globo, prego, vado parti da Ansta. Volevo prima dire una cosa, mi scuso per la gap fatta prima che mi hanno fatto notare le ragazze qui sotto, ma purtroppo l'emozione fa tutti scherzi. Succede, succede. Comunque, il prossimo gruppo sono gli Agnes Brown System e tutta la mia lista è la Vende Brown Giurotti, composta da Patrizio Mello alla Voce, Nico Sforo, Baccheria, Ligna Chimena, Pasco, Gaetano Saia, chitarra solista, Andrea Masciotra, chitarra rissima, rissima. Succede, succede, succede. Succede, 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 suc Grazie. 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 Grazie.